Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Ecco chi è venuto a mancare inspiegabilmente lasciando un vuoto tristissimo nella vita di molti, soprattutto di un ex protagonista di WED. WED lutto.Una terribile notizia sta sconvolgendo i fan della trasmissione amatissima di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Sta circolando una notizia di un terribile lutto che ha colpito il programma. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli delle notizie che stanno ultimamente circolando sul web. Di seguito vi mostriamo il video shock che ha lasciato allibiti alcuni fan della trasmissione di WED. Serie di lutti a WED.E' di qualche mese fa la notizia che il noto collaboratore di Maria De Filippi è scomparso lasciando un vuoto incolmabile nel cuore e nella vita di molti protagonisti di Canale 5. Ora arriva un'altra terribile notizia comunicata proprio da una delle ex troniste e corteggiatrici di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo, in seguito tronista. Giulia Cavaglia.Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando. Il terribile lutto per Giulia Cavaglia.Poche ore fa un utente della rete, accanito fan della trasmissione di Uomini e Donne, ha postato un video che mostra Giulia Cavaglia sconvolta. Maria De Filippi, WED.L'extronista di Uomini e Donne ha postato un video sul suo profilo ufficiale su Instagram, comunicando una notizia sconcertante ai suoi fan. La notizia in questione riguarda un terribile lutto che l'ha colpita. La donna ha pubblicato un video nel quale parla e spiega la sua situazione. La giovane donna, infatti, è stata colpita da un lutto che difficilmente supererà se non con l'amore e l'affetto di tutte le persone che da sempre le sono state vicino. Giulia ha raccontato di aver perso il suo amato cane, l'animale domestico che per 16 anni ha fatto parte della sua famiglia e della sua vita. Ecco di seguito il video che Giulia ha scelto di condividere. Ora Giulia si sente a pezzi e pensa che non riuscirà mai a risollevarsi da questo dolore. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata raggiunta dal numero 6 messaggi d'affetto che le hanno riempito il cuore e l'anima. E noi non possiamo fare altro che stringerci al dolore della donna sperando che si riprenda al più presto. Siamo sicuri che con l'aiuto della famiglia e degli amici ci riuscirà. E voi cosa ne pensate? Credete che Giulia riuscirà a riprendersi presto? Fatecelo sapere. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.